esordì con un piccolo ruolo nel film Ginger e Fred di Federico Fellini. In seguito interpretò ruoli importanti in svariate pellicole cinematografiche e film per la televisione come Arabella all'Angelo Nero e all'Hullodrome l'Anima Zingara. Nel 1994 venne scelto da Tinto Brass come protagonista del film L'Uomo che Guarda, ispirato all'omonimo romanzo di Alberto Moravia. La pellicola suscitò molto scalpore perché per la prima volta mostrava veri genitali maschili. Eretti invece delle consuete protesi e proprio casale si esibì in una lunga scena di erezione. Negli anni successivi prese parte ad alcune miniserie fra cui la famiglia Ricordi e Caraibi e Ebbe. Anche ruoli cinematografici Nivo il Tardivo, Jolly Blue e Come mi vuoi. Nel quale interpretava il travestito Gioia. Sposato con la principessa Vittoria Odescalchi. Casale ha abbandonato le scene dopo il matrimonio. Grazie.